Buongiorno a tutti, oggi vedremo con questo video tutorial come inserire e poi compilare la domanda per collaboratore scolastico in riferimento alle gradatorie di istituto di terza fascia del personale ADA per il TEN 2021-2023. Innanzitutto bisogna andare rispetto al profilo di collaboratore scolastico a indicare l'operazione che si vuole fare, cioè quella di inserimento. Dunque dal menu a tendina indicare inserimento. Una volta riferito l'inserimento per collaboratore scolastico andiamo avanti. Facendo avanti entreremo in una pagina dove troveremo proprio il profilo di collaboratore scolastico per indicare obbligatoriamente in questa sezione obbligatoria l'azione del titolo di accesso. Andiamo al titolo di accesso e inseriamo il titolo di accesso. Si ricorda che per titolo di accesso, oltre al diploma di maturità che vedete qui indicato, ci sono anche i diplomi di qualifica triennale. Quello per esempio di maestro d'arte, oppure quello per la scuola magistrale per l'infanzia che è un diploma triennale, o gli attestati o diplomi professionali triennali. C'è anche la possibilità per chi era già inserito con la licenza media, aveva effettuato già l'inserimento nei trienni precedenti, di poter aggiornare la posizione. Però questo è un nuovo inserimento, dunque siamo costretti a poter inserire una domanda solo se si ha o un diploma a qualsiasi di maturità, oppure una qualifica triennale dei diplomi professionali. Ripetiamo, del maestro d'arte o di diploma di qualifica triennale. Selezioniamo, diciamo in quale anno, per esempio nel 2020, si è ottenuto questo diploma, mettiamo per esempio 78 punti su 100 di diploma e vediamo che in decimi sarebbe 7.8. e poi diciamo dove è stato conseguito. Per esempio, istituto tecnico commerciale e in Audi conseguito nel 2020 luglio 1 luglio 2020 magari mettete anche il riferimento della città, per esempio in questo caso Genova e poi indicate la modalità di accesso che in questo caso, siccome un nuovo inserimento è modalità A e quindi fate inserirci. Dunque, il titolo di inserimento per il titolo di accesso è stato fatto correttamente. Vedete, titolo di accesso salvato con successo. Dopodiché si passa ai titoli culturali e si inseriscono anche i titoli culturali che per esempio per il profilo collaboratore scolastico ci sono le qualifiche ottenute attraverso corsi socio-assistenziali o socio-sanitari. Come si fa a inserire? Si va su inserisci, si aggiunge il titolo, si sceglie la qualifica del titolo conseguito, per esempio socio-assistenziale, si dice quando è stato conseguito, per esempio nel dicembre 2020 e dopo di che si fa inserisci e quindi il titolo viene inserito con successo. Anche per le certificazioni informatiche si va a inserire se si ha possesso di una certificazione informatica dichiarando di non averla mai presentata prima e a questa certificazione informatica, per esempio la patente europea a livello avanzato, si indica, si dice in quale istituzione è stato rilasciato, per esempio Accademia Archimede e poi si dice la data di conseguimento, che per esempio può essere anche prima del 2020, può essere stata fatta nel giugno 2019. Ecco qui e si fa inserisci, anche in questo caso il titolo è salvato con successo, per cui i titoli culturali e le certificazioni informatiche sono state inserite. Chiaramente per completare poi la domanda bisogna rispondere alle preferenze di sede su quest'azione, inserendo facilmente le 30 scuole e altro campo obbligatorio sono le altre dichiarazioni, quali i diritti politici, la cittadinanza, sono autocertificazioni che vanno inserite. Dopodiché la domanda è pronta e può essere inoltrata. Speriamo che questo video tutorial sia stato di vostro credimento, seguiteci nei nostri canali social della Tecnica della Scuola sia Facebook che YouTube perché tratteremo in altri video tutorial e in altre dirette il tema sulle gradatorie di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021-2023. Arrivederci a tutti! Grazie a tutti!